Gli Emirati Arabi in cerca dei prodotti di lusso made in Piemonte. Oltre 150 incontri tra importatori e aziende del nostro territorio in occasione della presenza della Regione Piemonte all'Expo di Dubai. I gioielli dell'Alta Oreficeria Piemontese, i prodotti per l'interior design e l'arredamento, ma anche le rubinetterie e gli utensili di alta gamma sono alcune delle produzioni dedicate al mondo del lusso che hanno catturato l'interesse del mercato emiratino durante i due giorni di incontri business organizzati dalla Regione in occasione della settimana del Piemonte all'Expo di Dubai. Protagoniste 16 piccole e medie imprese piemontesi dell'alta gamma nell'ambito del progetto di internazionalizzazione della filiera finanziato con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Non solo incontri business to business, ma un vero e proprio showroom con l'esposizione dei prodotti made in Piemonte, ricreato nel cuore di Dubai. Il legame tra Piemonte ed Emirati Arabi non si limita solo ad Expo, ma è un rapporto che dura da tempo. Infatti, nei primi nove mesi del 2021, le esportazioni piemontesi verso gli Emirati Arabi hanno avuto una crescita del 25% rispetto allo stesso periodo del 2020, quindi un giro d'affari che ad oggi supera i 200 milioni di euro. Nel dettaglio, tra i settori principali dell'export piemontese negli Emirati Arabi c'è l'agroalimentare, poi macchinari, apparecature e prodotti tessili, abbigliamento, pelli ed accessori. Notevole anche l'interesse per il settore della robotica e meccatronica piemontese. Sicuramente, in conclusione, un motivo di vanto per la nostra regione che si dimostra sempre più capace ad ampliare i propri confini e di stare al passo con i tempi.